Buongiorno, ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Scusate, oggi sono un po' raffreddata. Come promesso nei video precedenti, oggi vi volevo fare vedere come si mette il sensore che io lo uso, che ce l'ho abbinato per la mia terapia insulinica. Uso questo sensore Freestyle Libre, mi trovo molto molto bene con lui, ha anche la sua applicazione che sono molto contenta, non si blocca mai, è molto utile, ci fa vedere tante informazioni, poi in un altro video magari ve la faccio vedere. Oggi però vi voglio fare vedere il sensore. Allora, il sensore quando vi viene fornito lo trovate abbinato ovviamente alla sua macchinetta. La prima scansione la dovete fare con questo microinfusore e poi se avete la possibilità di avere uno smartphone con molto importante, che ha la funzione NFC, avendo questa applicazione questa funzione nel cellulare, che è diciamo, tra virgolette, una specie di bluetooth, potete fare la scansione con il cellulare. Insieme alla scatola del sensore vi viene fornito anche delle strisce per poter fare la glicemia tramite il sangue. Sono molto belle perché sono confezionate singolarmente e poi una glicemia normale col sangue lo sappiamo tutti come si fa. mi piace questa cosa che sono confezionate singolarmente. Allora, prendo la scatola, ora vi faccio vedere. La cosa molto comoda è che nella scatola trovate anche delle salvietine imbevute di alcol, una cosa molto molto utile perché così se magari siete in giro non dovete andare a preoccuparvi che non avete l'alcol, istruzioni d'uso nella scatola, poi abbiamo le due salvietine imbevute di alcol e procediamo direttamente con disinfettare la zona. Io ho deciso di metterlo un po' più sopra questa volta. Anzi, per tutti quelli che già lo usano, questo sensore, lasciatemi nei comment i siti preferiti per voi di inserire il sensore. Io lo metto di solito solo nelle braccia e volevo sapere se c'è qualcuno che magari ha un altro posto preferito dove inserirlo e sarei molto curiosa di provare un nuovo sito anche io. Allora, nella scatola troverete queste due cosette, ora ve le faccio vedere, si apre, qui avete il sensore all'interno e qui l'altra scatolina. Per qualsiasi tipo di problema, se voi chiamate il numero verde del freestyle, vi chiedono delle informazioni con riguardo al sensore di glicemia, se nel caso lo dovete mandare da loro per vedere perché non funziona, a me è capitato. Ho usato il numero verde, sono stati molto carini, mi hanno mandato la busta, io ho messo all'interno il mio sensore che non funzionava e non faceva la scansione. L'ho mandato in modo gratuito da loro e loro ci hanno lavorato su questo sensore per capire perché non funziona. Io il sensore di glicemia lo uso da quasi due anni ancora, non sono due anni ma sono quasi due anni, mi trovo molto bene con lui, è molto comodo. Non ho nessun tipo di problema con lui, a parte in estate quando ovviamente è logico con la spiaggia e il caldo, un po' la colla tende a scendere e per questo io ho comprato un braccialetto che ora ve lo faccio vedere. Questo è il braccialetto che l'ho comprato per il mio sensore, poi ve lo faccio vedere anche come funziona, lo tiene molto fermo e questo mi dà più sicurezza in estate. Quando vedo che appena appena un angolino ha già cominciato a sollevarsi, io già lo metto. Allora, questo è molto importante a conservarlo così avete tutte le informazioni riguardo al sensore. Se per caso avete problemi, invece di conservare tutta la scatola vi basta anche solo questo. Ok. qui abbiamo un piccolo segnale e anche qui basta solo far combaciare i due segnali e fare una bella pressione forte. Scusate il rumore, però si deve fare. ok, ora il sensore è qui, è passato da una parte all'altra, il mio sito è già stato disinfettato e consiglio di aspettare un pochettino il tempo che l'alcol evapori, se no un pochettino brucia. L'ago può sembrare grande, però non lo è, è molto morbido anche. Andiamo a posizionarlo nella zona che preferiamo e basta spingere, neanche troppo forte. Fatto, il dolore non si sente neanche e poi piano si solleva. E' fatto. Ecco voi. Il mio sensore è messo. Ora vi voglio fare vedere il braccialetto come funziona. li trovate online, ci sono di vari colori, quando comprate l'elastico è molto lungo, infatti io ancora non l'ho ritagliato e lo potete ritagliare a misura vostra. Ci sono più tipi di fasce per lui, però io ho preferito questa, mi è piaciuta questa e ho preso questa. Ci sono colorati, come ci sono anche tanti adesivi che magari possono coprire il sensore e dargli un altro colore. Ok, ora che non ne ho bisogno io lo tolgo. E vi volevo dire, questo sendo fatto basta passare il sensore per fare la prima scansione. Io utilizzo, è vero, devo essere sincera, la misurazione con sangue la uso poco e niente, perché la comodità di avere un sensore è proprio quella, di non avere le dita bucate, sensibili e un po' doloranti anche. E uso tantissimo il sensore. Dato che uso il cellulare, comunque faccio la scansione anche con la sua macchinetta, perché non si sa mai, il cellulare rimane senza batteria, magari cade per terra, si rovina e poi non avete più come fare la scansione della glicemia. Ve lo dico perché a me è capitato che il mio cellulare era rimasto senza batteria, senza accorgermene e non ho potuto farmi la glicemia, perché io non ho fatto anche la scansione con la macchinetta e da allora la faccio prima con questa e dopo con il mio smartphone. Avete 60 minuti di tempo per poter fare la scansione e solo con due dispositivi. Devo dire che l'unica cosa che un pochettino mi dà fastidio del freestyle è solo questo, che si può fare la scansione solo con due dispositivi. Abbiamo solo due soluzioni, fare la scansione con la macchinetta e magari portarcela con noi in giro con lo smartphone e assicurarci che abbiamo la batteria carica. Allora accendiamo e qua c'è scritto avvia un nuovo sensore. Ecco a voi, mi dice di fare la scansione. Si passa il retro della macchinetta e dice nuovo sensore in fase di avvio. Il sensore può essere usato tra 60 minuti. Li facciamo l'ok e la possiamo spegnere. La stessa cosa andrò a fare con il mio cellulare e non ve lo posso fare vedere perché la sto usando per registrare il video. Nell'applicazione vi fa vedere anche la notifica, vi arriva piano piano un messaggio come notifica in quale vi dice che mancano 30 minuti al pronto dell'uso del sensore oppure mancano 5 minuti. È una cosa molto comoda perché così voi potete stare tranquilli che c'è qualcuno che vi avvisa e voi non dovete andare a guardare l'ora. Quante sono passate? L'ho messo? Quando l'ho messo? Insomma è una cosa molto utile. Io vi ringrazio di essere stati di nuovo con me. Un bacio a tutti, ci vediamo nei prossimi video. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per vedere i miei prossimi video e di attivare le notifiche così non vi perdete i miei prossimi video. Un bacio a tutti, alla prossima! Un bacio a tutti, alla prossima!